Buongiorno signore e signore, io sono il Duca di Baionette e mi occupo di scrittura creativa. Vi ricordo che fino a mercoledì 14 luglio alle 23.59, che credo sia domani, quindi mancano poche ore insomma, è disponibile il mio triplo corso, corso avanzato di scrittura, corso avanzato di sceneggiatura, cioè progettazione delle storie. Uso il termine in questo senso qui. E strategia antiblocco che mi insegna come superare il blocco dello scrittore e scrivere di più e con più felicità, e tanto, ed è applicabile ad altri aspetti della vostra vita, non solo della scrittura, questi tre corsi, fighissimi, a soli 700 euro. Quando passerà il 14 luglio, strategia antiblocco sarà fuori mercato, non potrete più averlo, tornerà in autunno, ma tornerà a 400 o 500 euro quel che sarà, adesso è gratis. Gli altri due corsi non stanno più a 700 ma a 1000 euro, quindi vuol dire 1000 più 500, 1500 euro invece dei 700 attuali. Più avrete perso nei mesi in cui potevate studiare. Chiaro? Andate a vedere il video che è uscito ieri, mi sembra, sull'apprendimento, per capire quanto sarà grave perdere quei mesi. Ok? Allora, oggi rispondiamo a una domanda di Ludovico, che mi scrive. Pongo una domanda che credo possa essere interessante. Premesso che si sia stesa tutta la struttura del nostro bel romanzo, sperando di essere partita da un decente atto generativo, con il tema, la premessa, il suo bel arco narrativo e tutto il resto, e siamo pronti a mostrare il tutto. Cominciamo a scrivere e siamo anche produttivi, ma conviene buttare giù a valanga la bozza generale e poi andare indietro a rileggere alla fine del romanzo? Oppure conviene buttare giù capitolo per capitolo e poi perfezionarli solo dopo procedere? Oppure ancora terminiamo un atto e mettiamo a posto? No, perché mi ritrovo sempre a rileggere e rimettere a posto all'infinito. Talvolta mi sembra di tornare al punto di partenza tanti sono i giri che faccio per mettere a posto dettagli che magari non contano nulla. Immagino che non aver introiettato fino a farlo divenire naturale il corretto metodo di scrittura immersiva sia il limite principale, ma vabbè, facciamo finta che sono bravo. Non mi spiace. C'è un problema. Tutto quanto si risolve se tu prendi questo come elemento chiave. Cioè tu mi stai facendo domande che sono legate esclusivamente al fatto che non hai capito la scrittura immersiva. Nel momento in cui l'avessi capita non mi faresti questa domanda. Quindi no, non puoi fare finta che sei bravo. Se sei bravo hai già risolto tutto. Comunque, vediamo il resto della domanda. Tutto questo mina la produttività in un modo eclatante e mi fa impazzire perché non hai imparato come si scrive. Come consigli procedere? Imparando come si scrive. In questo lavoro assumo un ruolo importante l'editor. No, perché prima devi imparare come si scrive. Quindi cosa devi fare? Imparare come si scrive. È semplice. Qual è il tuo problema? Tu dici io torno indietro, tu rileggo quello che ho scritto e mi viene da cambiarlo. Ma perché è una merda? Se quello che è scritto fosse oggettivamente, misurabilmente corretto, poi sì, se vuoi puoi fare delle alternative, ma non è sbagliato, non ti verrebbe da cambiarlo. Quindi vuol dire che come scrivi tu non è corretto. Benissimo. La prima volta è scritto una merda, la seconda volta è scritto un'altra merda, la terza volta è ancora una merda. Scambi la merda con la merda. È inutile. Devi imparare come cazzo si scrive. A questo punto il problema del dai, stavolta mi rileggo subito il capitolo già fatto, oppure aspetto di aver chiuso l'atto e poi rileggo, non ci sarebbe, perché in ogni caso il testo è giusto. Gli errorini rimasti sarebbero così pochi da dover fare ben poco lavoro per sistemarlo. Devi imparare come si scrive. Devi poter misurare cosa è giusto e cosa no, perché se ogni volta tu cambi le frasi, vuol dire che non erano giuste nella prima, nella seconda, nella terza. E non è che cambi un errore come un altro errore è cambiato qualcosa, è sempre un risore, una merda. Chiaro? Capito cosa vuol dire? Quindi il tuo errore era proprio dire del possiamo tener conto che non sia quello il problema. No, quello risolve tutto. È per questo che lo insegnano il corso. Tu non hai il corso avanzato, evidentemente. Devi avere il corso avanzato, eh. Non è opinabile questo. Se risolvi i tuoi problemi, compralo. C'è l'offerta 3 corse 700 euro, forse avanzato di scrittura, costruisci in giro, la strategia anti-blocca, solo 700 euro, compralo, non hai scusa? Compralo subito. O compralo in terrata 260. È più conveniente pagare 700 euro in una botta, perché appunto c'è uno sconto del 10%, perché terrata 260 fa un complessivo 780, se tu mi paghi subito tutto, ti scalo 80 euro per solo 700, quindi un 10% di sconto. E poi mettiamo che tu arrivi e diceva bene, sì, ho capito come si fa a scrivere, ma comunque è meglio fare allora il capitolo singolo, l'atto, le cose, l'intero. Ecco, per dire, l'intero come bozza, valanga la bozza, ma valanga la bozza già non esiste. Tu non scrivi male per scrivere bene, tu scrivi bene per scrivere bene. In strategia anti-blocco, spiego esattamente cosa fare. E tu mi chiedi, ma se a un certo punto non so un dettaglio cosa, la strategia anti-blocco c'è scritto. C'è scritto esattamente cosa fare. esattamente cosa scrivere. Esattamente come comportarsi con... C'è scritto tutto. Appunto si chiama strategia anti-blocco. Se vuoi ti dico cosa faccio tipicamente con i miei autori di Vaporteppa, lavoriamo sui singoli atti. Perché tu non puoi fare la valanga a bozza e poi tornare indietro. Che cazzo vuol dire? Mettiamo anche che tu l'abbia scritta giusta, ma non puoi fare così. Una volta che tu hai scritto il primo atto e l'hai concretizzato, sarà leggermente diverso da come era programmato inizialmente. Leggermente diverso? I cattivi avranno sommature di significato leggermente diverse, magari. Qualche evento è leggermente diverso da come avevi pensato? Eh, ma questa ha conseguenze. Vuol dire che devi riprogettare tutto. Non puoi più scrivere la prima parte del secondo atto senza averla prima riprogettata e ripensata a luce del primo. Fatta quella, seconda metà del secondo atto. Fatta quella, terzo atto. Finito questo primo giro di scrittura e di lavoro poi facciamo quei romanzi vapore teppa, rianalizzi tutto. Alla luce della storia veramente come concretizzata, cosa nel procedere richiede piccole modifiche al primo e secondo atto? E le fai. E poi a strascico diventa questo crea problema alle parti dopo, devi creare un bilanciamento, un equilibrio. Deve essere giusto. Quindi io ti direi lavorare sugli atti è un'ottima idea. Un'ottima idea soprattutto a livello di editing. Ma questo non ti risolve come ragionare sulla scrittura. Perché magari per te può essere comodo che terminato un capitolo lo rivedi. Io consiglierei magari di rivedere dopo perché tu comunque sai scrivere bene sai che cazzo stai scrivendo non è che devi per forza rivederlo giorno dopo e ti inviterai magari di farlo. Se no potresti entrare nell'ottica del continuo a cambiare cose inutili che vuol dire che non hai veramente imparato. Tu pensavi di aver imparato ma la prova che continua a riscrivere le stesse cose vuol dire che non hai imparato. Smetti di scrivere e vai a imparare. Come si impara? Non si impara scrivendo, signori. Ma voi pensate che si impari scrivendo? Ma sapete che voi scrivete in base alle conoscenze che avete? Quindi non è che voi aumentate quelle conoscenze scrivendo. Lo scrivere è semplicemente l'atto di usare quelle conoscenze. Non aumentano scrivendo. Non è che tu ti metti a scrivere delle cose e impari concetti a narrativa immersiva. O impari che cazzo scrivere non esiste quella roba lì. Scrivere è già l'atto finale di un percorso di apprendimento. Quindi prima devi imparare. Non imparerai scrivendo. Scrivendo puoi solo rinforzare ciò che già sai. Sono degli errori? Rinforzerai quegli errori facendoli. Nel farli ti addestri a fare peggio sempre di più. Non scrivere. Prima impara a scrivere poi scrivi. Come impari a scrivere? Studiando come si scrive. Studiando le analisi dei testi. Per questo che facciamo gli esercizi. Per questo che vi ho messo più di 12 ore di analisi di esercizi fantastici di persone che ho scelto all'interno del corso avanzato per seguire gratis. Per questo vi ho messo anche altre due analisi che non sono così tanto fantastiche ma sono degli errori interessanti. Per questo vi ho messo analisi delle prime pagine delle cronache del ghiaccio del fuoco. Le prime pagine del primo capitolo col punto di vista di Varano. Questo. Per questo abbiamo pubblicato i romanzi di Vaporteppa. Sangue del mio sangue, la mia vita con le blatte, l'anno dell'omuncolo, la fine dell'uomo. I quattro che consiglio di studiare. Per questo. Esempi. Vedere concretizzata la scrittura. Tu nella tua mente ragioni come scrivere. Non scrivi. Nella tua mente ragioni. Tanto è inutile che scrivi finché non hai imparato. Che cazzo vuoi scrivere? Scrivere male? Rinforzare i chunk di memoria della cattiva scrittura? Se non sai cosa sono vai a vedere un attimo il video di ieri? Si parlava di apprendimento? Prima impari, poi scrivi. La scrittura non è come la corsa che nel correre sì, poi devi imparare anche come si corre, eccetera, eccetera. Devi fare anche allenamenti specifici, ma correre in sé già ti aiuterà a correre meglio. Non è come il nuoto che nuotare ma anche lì devi sapere come nuotare. Cioè se tu pensi che nuotare sia abbracciarti le ginocchia e cadere sul fondo della piscina e evidentemente farlo di più non ti migliorerà nello stile della rana che ne so. In realtà c'è una congruenza anche con altre cose più tipicamente non pensi a nuotare giusto lo faccio meglio divento più bravo perché mi si rinforza il cuore il sistema cardiovascolare i muscoli. Sì tutto molto bello ecco con la scrittura se scrivi male ti si rinforzano i circuiti degli errori non c'è qualcosa di positivo. È ancora più hardcore delle altre cose in questo ambito. Ok signori? Imparate, studiate. Tazzo adesso è facilissimo infatti ve l'ho detto varie volte nei mesi scorsi. I miei nuovi autori che si impegnano cioè fanno le cose che vi dico passo per passo di fare le fanno veramente cioè non di testa loro fanno altro. Io vi do una serie di possibilità su come studiare nel mio corso ne scegliete una qualsiasi vanno tutte bene e a gusto personale cosa preferite ma ne fate una qualsiasi la fate come ho detto io e imparate non è opinabile questo non c'è scelta dovete sbagliare o raccontarvela per non imparare cioè chi se la racconta cioè qui dico non fare questo lo fa gli dico guarda che quegli esempi sono corretti ti servono quindi a sapere che se a te qualcosa sembra sbagliato non hai capito e quello è così idiota che mi dice no ma questa cosa in quel romanzo è sbagliata no piccola inutile la testa di cazzo vomitata dal buco del culo di satana non è sbagliata se tu che sei stupido ti ho detto che è giusta e che quel testo in quella garanzia che è giusta ti permette di verificare se tu hai capito perché se ti sembra sbagliato vuol dire che non hai capito e il tuo risponso sapendo questo è dire è sbagliata ma tu sei la cagata che ha fatto satana appena alzato o quella che ha fatto dopo la colazione visto che lui caga due volte è come il postino però con la merda e non col campanello no dimmelo perché in ogni caso nell'ambito della merda sei ok ti dico una cosa è quella e ti dico e te la dico perché è vera cioè che cazzo di vantaggio ha non dirti una cosa se non è vera visto che poi si misurano i risultati irreali cervello suono quindi vi do un sistema passo passo dove potete anche scegliere cosa preferite come applicazione basta che lo seguite e imparate è per questo che imparano in così pochi mesi quello che una volta richiedeva due anni per i miei corsisti per i miei autori che seguo per Vaporteppa adesso richiede due mesi tre mesi nel senso che ho visto gente che ha ottenuto quello che Simone Corao mencogno a tutti i due anni l'ho ottenuto in due tre mesi cioè non sono cifra caso è una realtà fattuale e perché così? grazie agli esempi perché per esempio Simone Corao che a un certo punto ha avuto un'accelerata incredibile nella sua capacità di scrittura diventando talmente bravo che in due giorni mi faceva un nuovo capitolo da zero due tre giorni una cosa assurda il primo capitolo me l'ha fatto veramente da zero per due volte entrambe le volte in tre giorni una cosa folle e scritto benissimo tra l'altro gli ho messo pochissimi appunti ha avuto quella scossa quando ha studiato come se fosse il Vangelo come se fosse la verità di come si scrive sangue del mio sangue di Menconi e lui prima ha lottato per un paio di anni sull'imparare la scrittura ha imparato davvero quando ha usato gli esempi che danno riprova sociale ti danno anche coerenza perché tu vai a vedere bla 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 eccetera eccetera ti danno riprova sociale che è quella più importante non sapete cosa è riprova sociale studiate gli striccialdini ok perché invece Menconi ci ha impiegato di più perché lui ha dovuto creare quei primi testi sangue del mio sangue soprattutto ma anche la fine dell'uomo la fine dell'uomo quel testo che una volta aveva un altro titolo quando è uscito nella prima edizione ha dovuto crearlo lui non c'era qualcun altro lui poteva imitare solo dei testi che però erano contenevano degli errorini e quindi l'imitazione non era perfetta lui ha creato i testi perfetti da imitare ancora a sua volta ha creato un nuovo testo adesso Duringon con l'anno delle mucone ha portato un altro ed è per questo che i nuovi autori stanno imparando così in fretta perché è come essere nani che si ergono sulle spalle dei giganti il gigante Menconi sopra è stato il nano Corà sopra il nano Corà è stato il nano Duringon sopra il nano Duringon stanno salendo i miei nuovi corsisti ognuno di questi impiega un po' di meno a imparare perché ha più esempi che gli danno diversi autori che scrivono con stili diversi ma tutti seguendo le stesse regole tutti incredibilmente bene riprova sociale un principio fondamentale per imparare e per convincere riprova sociale il mio metodo non è opinabile che funzioni il mio metodo funziona a punto perché non è il mio metodo è come funziona la mente umana applicata alla scrittura incluso la complessità come vi obbligo a ragionare in modo complesso senza facce soluzioni con pochissime etichette non show don't tell capire che cazzo veramente sta accadendo capito? quindi tornando al tuo discorso sì il grosso problema è che devi imparare veramente a scrivere e lo farei con il mio corso avanzato non c'è un altro metodo non ci sono altri sistemi i sistemi incompleti ti danno un apprendimento incompleto vuol dire errori da risolvere vai a vedere qualche giorno fa un paio di settimane fa non mi ricordo ho fatto mi sembra un video dedicato all'apprendimento al problema degli insegnamenti incompleti a che danni devastanti vi faranno sul lungo periodo ok e poi per le cose più tecniche del come scrivo come supero il blocco dello scrittore come evito una centinaia di volte le istruzioni sono strategie anti blocco ma il 99% della soluzione è imparare come si scrive intanto strategie anti blocco voglio mettere un'intervista con Lorenzo che è stato un mio corsista selezionato nel 2020 molto molto bravo ha fatto un testo meraviglioso ha scritto in tempi anche in tempi non da record ma tempi molto veloci tempi che penso tutti voi sareste contenti di raggiungere per un testo anche di una discreta lunghezza e volevo intervistarlo per portarvi sempre per riprova sociale in strategie anti blocco mette la sua intervista dove vi spiega cosa ha fatto per imparare a scrivere con una certa velocità imparare a scrivere bene superare certi errori che lo facciano scrivere molto male quando ha cominciato signori scriveva di merda è uno di quelli che ti ho detto in pochi mesi è passato da merda a scrivere molto bene perché ha più sul serio quello che insegno chiaro? quindi mio caro Ludovico e tutti gli altri che state ascoltando adesso infobox link per l'acquisto del corso prendete i tre corsi il triplo corso lasciate pure stare le consulenze con me se non avete soldi da buttare non vi servono dovete imparare queste robe qui sì le consulenze con me sono super scontate praticamente a metà prezzo le tre consulenze 500 invece 900 euro va bene tutto molto bello in effetti danno un aiuto devastante a imparare ma se il vostro problema è che 1200 euro sono troppi con 700 vi prendete tutto ciò che vi serve quei tre corsi alle consulenze ci penserete in futuro io probabilmente finita questa offerta chiuderò le consulenze per qualche mese in modo da consumare e far fare quelle già prenotate e non accumularne altre però nel frattempo voi studiate 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 in modo ossessivo i tre corsi a 700 euro a novembre quando sarà che riapro le consulenze arrivate magari me ne chiedete ok magari ci sarà la possibilità di averle con non lo so sconti così grandi non credo non lo so però avevo detto non deve essere il vostro blocco dire non posso permettermi anche le consulenze tantissime Lorenzo per dire ecco che ha imparato benissimo e arrivate a imparare senza aver fatto neanche una consulenza con me ci ho arrivato al punto in cui l'ho scelto non aveva mai fatto una consulenza con me adesso l'ho fatto il corso io l'ho scelto ho detto guarda ti ho scelto se hai qualche progetto che potrebbe andare bene per Vaportepa per H-Rombux e ti posso seguire per queste cose da questo momento lavoriamo uno a uno lui tutte le cose che ha fatto con me uno a uno non le aveva pagate voi potete arrivare al suo livello anzi voi siete facilitati quando lui l'ha fatto non era uscito la fine dell'uomo non era uscito l'anno dell'omuncolo aveva solo sangue di mio sangue e la mia vita con le blatte forse aveva quello forse aveva già quello fine voi adesso avete il doppio dei testi per voi è il doppio più facile chiaro infobox comprate l'offerta mercoledì 14 luglio alle 23.59 quindi non mancano tante ore sarà chiusa vi ricordo che mercoledì comunque alle 21 vi farò da vi farò da promemoria per ricordarvi dell'offerta ma alle 21 facciamo la live non sarà di esercizi sarà una live dedicata alle novità sul mio canale alle novità sul mio corso a quel discorsetto credo di averne parlato non mi ricordo se all'inizio di questo video o nel video di ieri di come sono stato convinto anche da Livio Gambarini mio amico di Rotte Narrative ma erano due anni che altri formatori altri miei amici come Carmelo Torre altri Alessandro Di Concilli eccetera mi facevano pressione su questa cosa di ridurre contenuti gratuiti gratuiti li ridurrò alcune cose che adesso ottenete in mailing list non le otterrete più mi dispiace sono cose molto belle però mercoledì vi spiegherò la parte diciamo di psicologia e neuroscienza che è sediato questa scelta perché io vi sto danneggiando perché avevo dei paradigmi su cosa vi dovevo dare dei paradigmi sbagliati perché nel momento in cui vi danneggiano sono paradigmi sbagliati la scelta ok signori quindi ci si vede mercoledì alle 21 bellissima live di aggiornamento di cose che assolutamente vi interessano nel frattempo comprate il corso non fate i sciocchini imparate veramente a scrivere smettete di essere aspiranti scrittori togliete quel cacchio di aspiranti cominciate a fare le persone serie e diventate veramente gli scrittori che meritate che potete diventare alla prossima